I nazisti avevano l'idea che la democrazia era qualcosa di debole, che le democrazie erano dei regimi deboli e mi sembra che la seconda guerra mondiale abbia mostrato che le democrazie sono molto più resistenti delle dittature e penso che gli islamisti hanno la stessa idea, l'idea che questo messaggio, che quello che io ho postato, sia un messaggio di una persona debole, di qualcuno che non è virile, che non vuole combattere. Invece questo è il messaggio di una persona che vuole combattere ma con le armi della democrazia. Ci sono delle persone che funzionano in maniera diversa e che si sono sentite rabbiose, ma certo è una collera anche sana che fa agire. Altri hanno preso altre vie, ma io ho incontrato tantissime persone che sono state colpite dagli attentati del Bataclan e io ho visto che malgrado tutto stavamo tutti dirigendoci nella stessa direzione. Siamo prima di tutti degli uomini e delle donne. L'amore della mia vita resterà sempre lì con me, ma non devo neanche dimenticarmi che io devo continuare a vivere.